Oggi finalmente dobbiamo parlare di Coinbase. L'IPO di questa azienda sarebbe dovuto essere un successo colossale. Invece si è rivelato un flop senza precedenti. Il giorno dell'IPO le azioni hanno raggiunto circa 430 dollari per azione. E nel momento in cui sto registrando questo video sono arrivate fino a 225, un crollo pazzesco. Benvenuti su Investire con Gus. Visti i recenti crolli, penso sia arrivato il momento di parlare finalmente di Coinbase. Questa è un'azione che ha attratto l'interesse di tantissimi investitori. Non so neanche quanti messaggi ho ricevuto nei primi giorni della quotazione da persone che mi dicevano, wow Gus hai visto Coinbase, che figata, ci hai investito? La risposta è no, non ci ho investito. Investire subito nelle IPO è molto pericoloso, si rischia di farsi molto male. Come sta succedendo in questo caso? Cosa interessante è il fatto che Jeremy di Financial Education, lo youtuber e investitore di cui vi parlo spesso, ha fatto proprio questo errore, ha investito in Coinbase nei suoi primi giorni di quotazione. Dovrebbe aver comprato tra 400 e 300, perciò non gli sta andando molto bene per adesso. In questo video cercheremo di capire se Coinbase potrebbe essere un investimento interessante oppure no. Prima di iniziare vi chiedo soltanto di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Per chi non lo sapesse, Coinbase è una piattaforma con la quale si può costruire un portafoglio di criptovalute. Si può utilizzare per acquistare varie criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Questa è considerata una delle piattaforme più sicure e una di quelle più regolamentate. Sulla piattaforma non è possibile acquistare qualsiasi schifosa criptovaluta. Per il momento si stanno limitando a mettere le più grosse, le più importanti. Fanno una scrematura, non propongono qualsiasi schifezza solo per guadagnare. La piattaforma è una delle migliori, però ha dei costi più elevati rispetto alle altre. Al momento ci sono più di 56 milioni di utenti verificati. E creare il conto è molto semplice. Basta aprire l'account, collegare il conto corrente e poi si può iniziare ad acquistare o vendere. Perciò il business model è molto semplice, è un broker che tratta soltanto criptovalute. Oggi le azioni stanno crollando del 5,79%. Questo perché il Bitcoin e le altre criptovalute stanno crollando un sacco. Al momento Bitcoin sta perdendo il 10%. E oltre a questo Coinbase ha avuto dei grossi problemi, cioè durante il crollo tanti utenti non riuscivano ad operare sui Bitcoin. Ci sono stati dei problemi che hanno impedito agli utenti di poter tradare le criptovalute. Questo fa perdere un po' di credibilità a Coinbase. Perché questa si vendeva sempre come la migliore app, la più sicura, la più funzionante, la più performante. Questo dimostra invece che quando c'è un'alta volatilità anche questa piattaforma può avere dei problemi. Però paradossalmente questo potrebbe avere un effetto positivo per Coinbase. Perché grazie a questo è finita sui titolioni di CNBC, quindi alcune persone che magari non la conoscevano sentiranno per la prima volta il suo nome. A qualcuno di voi potrà sembrare un'assurdità, però non è così. Anche quando l'app americana Robinhood decise di bloccare il trading su GameStop e venne attaccata da moltissimi utenti, venne attaccata da tutto il mondo, grazie a questa vicenda guadagnò un sacco di utenti, guadagnò un sacco di clienti. Come disse qualcuno la pubblicità negativa è sempre pubblicità. Perciò magari questa vicenda potrebbe dare un boost ai risultati di Coinbase. Una cosa importante da dire è che se si investe in Coinbase si deve credere nel Bitcoin, o perlomeno nelle criptovalute. Si deve credere che nei prossimi anni le criptovalute avranno un importante impatto sul mondo, altrimenti non avrebbe senso investire in una piattaforma che offre soltanto criptovalute. Adesso finalmente andiamo a dare un'occhiata ai numeri. Come vedete nel 2020 i ricavi sono stati 1 miliardo e 277 milioni, e per il 2021 si prevedono ricavi intorno ai 6 miliardi. Sembra una previsione folle, però non lo è, perché i risultati del primo trimestre del 2021 sono stati pazzeschi. Nel Q1 del 2020 i ricavi erano stati di 179 milioni, invece nel Q1 del 2021 sono stati di 1 miliardo e 597 milioni. Uno sviluppo, una crescita veramente pazzesca. E guardate l'utile netto, è stato bestiale, di 771 milioni. Quindi il margine netto è stato del 48%, un margine netto veramente impressionante, ai livelli delle migliori aziende tech. Poi per il 2022 e il 2023 gli analisti si aspettano ricavi sostanzialmente piatti. Quindi una super crescita nel 2021 e poi nei due anni successivi piattume totale. Però c'è da dire che prevedere il futuro di Coinbase è praticamente impossibile, perché dipenderà completamente dal Bitcoin. Anche per questo fare una valutazione di Coinbase è praticamente impossibile, è difficilissimo. Però se l'azienda dovesse effettivamente raggiungere 2 miliardi di utile nel 2021, alle valutazioni attuali il price earning potrebbe essere di 27, molto basso per un'azienda ad alta crescita come questa. Perciò forse potrebbe essere un investimento interessante. Però qua il problema è che è veramente impossibile valutarla, è difficilissimo, nessuno sa dove andrà Bitcoin. Quindi è già difficile di suo valutare un'azione Growth, un'azione ad alta crescita. Quindi figuratevi valutare un'azione ad alta crescita che dipende completamente da criptovalute. Perciò sinceramente anche io mi trovo in forte difficoltà a valutarla. Forse potrebbe essere un investimento interessante, però se dovesse arrivare un crollo del Bitcoin cosa potrebbe succedere? Poi io, come ormai avrete capito, non credo molto nelle criptovalute. Perciò trovo molto difficile investire in un'azienda del genere. Però se dovessi scegliere tra investire direttamente in criptovalute o investire in Coinbase, sceglierei quest'ultima. E infatti sto considerando la possibilità di investire una piccolissima parte del portafoglio in questa azienda. Perché oltre ad essere un'azione molto difficile da valutare, potrebbe diventare un'azione veramente grossa, potrebbe crescere tantissimo nei prossimi anni. Però più che un investimento sarebbe una scommessa. E le scommesse non fanno per me, quindi è molto probabile che non investirò mai in Coinbase. Ma mai dire mai. Un altro fattore imprevedibile di questa azienda è che non è neanche detto che se Bitcoin dovesse crollare, i risultati di questa azienda peggiorerebbero considerevolmente. Non è certo. Anche se in passato, quando era scoppiata la bolla Bitcoin, nel 2018 i risultati di Coinbase erano peggiorati in maniera pazzesca. Quindi è abbastanza prevedibile. È probabile che se le criptovalute iniziassero a crollare di nuovo, anche Coinbase subirebbe un brutto colpo sui suoi risultati. Quindi la conclusione finale di questo video è che questa azione, questa azienda, è circondata da troppe dubbiosità, da troppe incertezze. Perciò per il momento non ce la faccio proprio ad investirci, anche se potrebbe essere una grande occasione. Ma ricordatevi sempre che è meglio perdere un'occasione che rischiare di bruciarsi il portafoglio. Per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!